Buonasera, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato la notte scorsa e portato al sicuro un escursionista che si era smarrito ieri nel gruppo del Pramaggiore Monterua, tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in Friuli. In seguito a un violento temporale che insieme con il buio sopraggiunto gli aveva fatto perdere l'orientamento. A trovare è stato il gestore di un rifugio della zona, allora ne è noto il XAS, Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia. E ora ci occupiamo della convention annuale dell'ente Friuli nel mondo, concluso oggi a Fogliano Re di Puglia, ma l'appuntamento il prossimo anno sarà nell'Udinese. La due giorni dedicati ai Friulani giunti da ogni parte del pianeta per partecipare all'incontro annuale dei Friulani nel mondo si è conclusa oggi a Fogliano Re di Puglia. Siamo stati particolarmente lieti e orgogliosi di aver ospitato questo evento, ha detto il sindaco del comune ospitante Cristiana Pisano. La convention ha proseguito e si è rivelata un'opportunità per far conoscere i Friulani che vivono all'estero in luoghi simbolo del nostro comune e desidero che il mio saluto giunga a tutti loro. Adriano Lucci, presidente dell'ente Friuli nel mondo, ha indicato che l'ente ha all'attivo tanti progetti che coinvolgono i giovani nonostante i fondi limitati. Fra questi il corso internazionale di mosaico, il Friuli Summer Camp, il percorso di studi valori identitari e imprenditorialità, il lab e il progetto studiare in Friuli. Fra i temi affrontati nel corso degli incontri organizzati nel corso della manifestazione, quello dell'emigrazione friulana prima e dopo la Grande Guerra. Per l'occasione sono giunti centinaia di Friulani da tutto il mondo e questa mattina erano presenti anche le telecamere di Telefriuli per la diretta del Campanile della Domenica. Presenti tanti sindaci che hanno commemorato i caduti del cimitero austro-ungarico di Fogliano Re di Puglia, deponendo una corona per poi recarsi sul colle di Sant'Elia per un altro momento di commemorazione. Nato 65 anni fa, l'ente Friuli nel mondo conta oggi circa 23.000 soci in tutto il mondo e 160 sodalizi. L'appuntamento con i friulani che vivono all'estero per la regola dell'alternanza è fissato in un luogo della provincia di Udine per il 2019. In tanti per l'occasione oggi hanno raggiunto Fogliano Re di Puglia. Sara Ramani assieme a Paolo Bassi hanno realizzato diverse interviste alla gente ma anche al consigliere regionale già sindaco di Fogliano Antonio Caligaris. Consigliere Caligaris, oggi il quindicesimo incontro appunto dei friulani nel mondo. Che importanza ha questa giornata e secondo lei come deve essere tramandata e trasmessa questa cosa ai giovani appunto di oggi? Allora, innanzitutto è importantissimo perché l'ente Friuli nel mondo e Fogliano hanno scelto di venire proprio a Re di Puglia nel centenario della prima guerra mondiale, della fine della prima guerra mondiale. Questo è un messaggio molto chiaro, come ha detto anche il Presidente Luci, di analisi e anche di riflessione per tramandare proprio ai giovani quello che è stata la storia del Friuli in quel grande disastro. E' stata la grande guerra. È stato bello ed è importantissimo che sono venuti qui a Re di Puglia che non è una zona friulana ma sono venuti a salutare e forse a rendere onore a tutti i friulani che riposano qui e che tanto hanno patito in quella guerra. Signora, lei da dove viene? Da vicino a Parigi. Come mai oggi è qui? Per la festa del Friuli nel mondo. E lei sente molto questa vicinanza al suo territorio? Sì, ogni anno sì. Dove viene lei? Da Fana, Pordenone, provincia di Pordenone. Sono nata qua, sono andata in America che avevo due anni e mezzo e sono ritornata qua 40 anni fa a sposarmi. E viva Friuli! Ecco, così... Sarà un agosto bollente. Da martedì sono previsti 36 gradi in Friuli Venezia Giulia. È imminente un'ondata di caldo intenso e affoso che con tutta probabilità sarà la più forte e duratura dell'estate. La prossima settimana sarà a Rovente dove sono attesi picchi più elevati, punte di 36-38 gradi. Farà molto caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi dove si potranno superare i 30 gradi a 1000 metri. Lungo le coste l'Affa si farà sentire con temperature percepite che potranno superare i 38 gradi. Già a partire da questa sera, quando a Udine e Pordenone la colonina di Mercurio salerà fino ai 34 gradi, ma a partire da domani si affermerà l'alta pressione portando ad un aumento deciso delle temperature. Farà più caldo, ma caleranno i livelli di umidità che anche nell'ultime ore ha toccato il 60%. Il termometro resterà stabilmente sopra quota a 20 gradi anche la notte, con le temperature minime che a partire da metà settimana non scenderanno sotto i 26 gradi. Tutto questo durerà per gran parte dalla prima decata di agosto. E ora ci spostiamo a Lignano Pineta, numeri da record ieri per la Color Run. Terza edizione della Color Run con Giorgio Ardito, una bella soddisfazione perché veramente migliaia, siamo ai 20.000? Ma credo che ci siamo arrivati anche quest'anno, dopo Torino, dove a sede la RCS il signor Cairo vuole che vinca sempre Torino, tra tutte le località turistiche balneari toccate da questa manifestazione è sicuramente quella che raggiunge il maggior numero di iscritti. È veramente una festa, ci sono famiglie intere che partecipano, gruppi di amici, teenager. Insomma è un bel momento, è una bella manifestazione, siamo alla terza edizione e speriamo di averle ancora qua al prossimo anno. La location sicuramente è importante, però l'organizzazione anche di più. Sì, credo che questa sia una delle location preferite da RCS, sia perché trovano un palco già pronto sulla piazza per la colorata finale, sia per il Palapineta dove distribuiscono i kit, sia per la bellezza di correre in mezzo alla pineta delle ex colonie e poi di fare questo ritorno sulla spiaggia ogni chilometro un colore. Beh, insomma, non credo che ci siano tanti posti in Italia che offrano tutto questo. Alessandro Marosa, vice sindaco, adesso togliamo un po' la gente dalla spiaggia per un qualcosa che è eccezionale. Beh, terza edizione della Color Run a Lignano Sabiadoro, edizione dedicata a Heroes, dunque gli eroi della quotidianità. Tutte le persone che normalmente frequentano Lignano, quest'oggi hanno la possibilità di viverla in un modo diverso, al tramonto, ritornando bambini, giocando semplicemente con del colore e riuscendo così a condividere dei momenti unici in un'atmosfera che è inebriante a un certo punto di vista e festosa dall'altro. Dunque è veramente un mix di energia, di gioia e di condivisione per questa terza edizione che veramente ha numeri da record. È attivo da qualche giorno il servizio di Bicibus che collega Monfalcone e Capodistria con arrivi fino a Grado e Cormos. Nicola Pierici, un nuovo collegamento con un Bicibus da Monfalcone a Capodistria. Sì, un collegamento che si aggiunge a quelli già esistenti qui nel territorio. Sì, una delle novità relative al cicloturismo per quest'estate del 2018 coinvolge il comune di Monfalcone che in un progetto interreg assieme al comune di Capodistria ha sviluppato questa nuova forma di collegamento intermodale che prevede appunto un bus con il trasporto per le biciclette che collega le due località di Monfalcone e di Capodistria prevedendo una sosta intermedia a Trieste e di collegamenti con le nostre località turistiche di Grado e di Cormons. Monfalcone è una rete di ciclabili abbastanza diffusa, più di 20 chilometri di piste ciclabili che corporano gran parte del territorio. Mancano però ancora alcuni tratti importanti che secondo noi renderebbero veramente completa la rete ciclabile cittadina. Parliamo in particolar modo del raccordo ferroviario sull'ex ferrovia Fincantieri, quindi il collegamento fra Viale San Marco con Ronchi dei Legionari. FIAB a livello locale è molto intraprendente, sta sviluppando dei progetti anche sociali. Pensiamo innanzitutto alla ciclostaffetta per tenere alto la ricerca della verità su Giulio Regeni, quindi una ciclostaffetta che coinvolgerà alcuni soci che partiranno da Fiumicello e si recheranno a Roma e porteranno all'attenzione dei politici nazionali alcuni documenti raccolti dalla famiglia per tenere alto l'attenzione sul fatto di Giulio Regeni. E a proposito di piste ciclabili, l'amministrazione comunale di Monfalcone punta a svilupparne ulteriori entro maggio 2019. Questo sarà il primo Monfalcone Bike Festival chiamato, che sarà praticamente una presentazione del mondo bike, di quello che succede nel mondo, di tutte le biciclette, turismo, la corsa, mountain bike, travel, viaggio, in una posizione strategicamente eccezionale che è il Monfalcone, che è tra il mare e il carso. Il periodo sarà dal 10 al 12 maggio, quindi antecedente all'estate, e andrà di pari passo con lo sviluppo delle ciclabili che in Monfalcone saranno in miglioramento, in sviluppo, perché il futuro è della bicicletta, ma non solo per chi fa lo sport, ma anche per chi va a lavorare. Un anno zero, ma sicuramente noi prevediamo che questo tipo di evento, che comunque ha una sua caratterizzazione, e va nell'ottica anche della personalizzazione degli eventi che noi intendiamo portare avanti, è un evento che dovrà vedere poi un seguito, ma dovrà crescere, perché noi crediamo molto che, soprattutto il fenomeno della bike, possa essere, non solo che Monfalcone, ma ormai l'orientamento in tutto il paese, sempre più sviluppato e sempre più sentito. Siamo allo sport, all'Udinese, andiamo a conoscere una new entry, Mark Uguet, preparatore atletico al servizio di Velasquez, il suo compito è quello di far sì che gli atleti possano dare il massimo nel nuovo sistema tattico del tecnico. Ecco come. È normale che vengano i ragazzi di un periodo di transizione, di non allenare molto, perché al finale finisco il campionato, ma noi quando abbiamo arrivato abbiamo fatto i test, e rispettiamo tutto quello che hanno fatto l'anno scorso, ma loro stanno lavorando molto bene e questo è quello che adesso non preoccupa. Partiamo sempre dal sistema di gioco e dopo, dal sistema di gioco, lavoriamo ovviamente dalla condizione all'etica del giocatore, dall'aspetto psicologico, anche tecnico, tattico e socio-affettivo, perché pensiamo che noi il giocatore è una persona ipercomplexa, però prima sempre partiamo dal sistema di gioco, che noi volevamo fare e che teniamo come referenza la gara. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera in prima serata alle 21, l'appuntamento con Telefiule Estate, saremo in diretta da Maniago per i campionati mondiali di paraciclismo. Grazie per l'attenzione, il TG Tornale 22.15, buona serata. Grazie per l'attenzione, il TG Tornale 22.15, buona serata.